Signori, so bene che il video è corto, ma questa nuova modalità di Hearthstone cambia completamente le carte in tavola e purtroppo possono capitare anche partite così veloci. Mi raccomando, la modalità è fighissima, lasciate tanti bei mi piace e non perdetevi la fine del video in cui andiamo a spacchettare un bel pacchettino di carte. Enjoy e buona visione! Hello guys, Ryan here! Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Hearthstone ed è partita la seconda rissa, quindi andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Repubblica delle banane, Mukla ha compiuto gli anni e lui adora le banane, è una scimmia, grazie a casa. Quando uno dei tuoi servitori muore, riceve una banana per festeggiare. Signori, andiamo a creare il mazzo apposito per questa rissa e vediamo come si gioca. Ok signori, il mazzo è stato fatto, però ho scelto il mage perché è il mazzo che conosco meglio e beh, semplicemente andiamo. Ok signori, ok, ok, prima di tutto ho sbagliato perché ho messo boom nel mazzo e va bene. Contro abbiamo un warrior dorato, aia, questa è tosta, aia, aia, signori, ce la vediamo proprio brutta, brutta. Abbiamo iniziato anche male. Va bene, va bene, vediamo come va. Ricordiamoci che ogni volta che ci muore un servitore abbiamo una banana che teoricamente dovrebbe darci più uno, più uno a un servitore, se non ricordo male, se è quella la carta che ci viene data, ovviamente. Ok, io gioco il mio bellissimo scienziato pazzo che come sapete, signori, a me piace perché, insomma, ci dà sempre quella protezione che se muore ci gioca al segreto, quindi a posto. Siamo tutti molto contenti. Vediamo lui cosa fa, ma devo dire che è la prima volta che vedo un warrior dorato. È molto figo come ritratto, molto molto bello. Complimenti a lui, eh. Ok, abbiamo avuto una banana. Come vedete abbiamo più due, più due a un servitore. Signori, a questo punto io direi di giocarcela in maniera molto semplice, in realtà. Molto semplice. Facciamo un danno a lui. Anzi, no, facciamo tre danni all'1-4. Anche se gli dà uno di bellissima armatura che non ci piace, in realtà. Però va bene. Prova bene perché ho una mezza strategia in mente. Avendo il nostro mazzo comunque basato sull'utilizzo delle magie, forse questa cosa delle banane potrebbe tornare a nostro vantaggio. Ma vediamo un attimino. Allora, ci deve andare molto molto di culo perché adesso io giocherò il destafiamme e poi con la magia gli diamo più uno, più uno, anzi più due, più due. Ok, molto bene, molto bene. Lui muore, lui ha una tre in arma, tre armatura, però noi abbiamo un quattro o sei. Questo è molto comodo. Cala una bestia perché sennò qui inizia a vedertela brutta. Infligge un danno. Ah, può darci anche banane diverse? Cavolo, questa cosa non l'avevo calcolata, signori, perché ovviamente non lo sapevo. Aia, questo non mi è piaciuto per niente perché poteva essere un'ottima strategia, la mia invece niente. Peccato. Oh, signori, finalmente! Gioca una carta e noi ovviamente gliela copiamo perché... Bene, 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 bene così. Allora, a questo punto, facciamoci un attimo due calcoli. Abbiamo sei di mana, quattro se giochiamo la novizia occultista e possiamo, possiamo teoricamente, quello ci costa due, ok... Allora, se io faccio così... Fermi tutti. E poi faccio così. E poi molto semplicemente faccio così... Ok. Siamo a posto, giusto? Siamo a posto. Molto bene, signori, andiamo avanti. Very good. Ok, allora, ci ha schiantato la sua arma sopra di noi e è andato poi a farsi lo scudo e, appunto, a farci execution. Si chiama execute, execute... No, colpo di scudo. Per, appunto, toglierci il tank. È stata una mossa saggia, amico mio. Mossa saggia, ma io gioco a Dr. Boom. Che... E beh, è boom. È boom. Perché, appunto, fa boom. E va bene così. Vediamo cosa fai. Avrà una rissa in mano, molto probabile. Molto probabile. Questa cosa mi spaventa un po', in realtà. Quindi vorrei un attimino cercare di mantenere questa situazione per bene. Siamo arrivati al punto tale che ci possiamo noi permettere di fare delle belle combo, ma anche lui. E le sue combo saranno decisamente migliori delle nostre. Ma, scegliela male della morte. Signori, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Forse è un po' culo, forse no, chi lo sa. Ma abbiamo vinto. Abbiamo beccato anche, ovviamente, una bustina, un po' d'oro. La bustina è la ricompensa per vincere la rissa, signori. Quindi, torniamo indietro. Ci andiamo ad aprire la bustina insieme, come abbiamo fatto per lo scorso video. Speriamo che esca qualcosa di figo. Ovviamente, cerchiamo almeno una leggendaria. Ma, vaffanculo, niente di che. Purtroppo, mi sa che sono tutte carte che ho già, tranne questa del rogue. Signori, noi ci vediamo nel prossimo video. Lascia un piacere il commentino. Mi raccomando, fatemi sapere se avete provato anche voi questa nuova modalità di Airstone, questa rissa. Fatemi sapere se ne volete altre. E noi ci vediamo nel prossimo video. Enjoy e che rinnessi con voi. Bye, bye.